La legge spazza corrotti è una rivoluzione, non solo nella lotta alla corruzione, ma anche nella trasparenza dei finanziamenti ai partiti. Il Movimento 5 Stelle vuole spazzare via quella opacità, quel mistero che copre il flusso di denaro che dai privati arriva alla politica, soprattutto il variegato mondo delle fondazioni, perché è lì, nelle fondazioni che adesso arrivano i soldi. Vogliamo sapere i nomi, vogliamo sapere quanti soldi ricevono. Guardate questo esempio, guardate come si intreccia tutto. In questa fondazione che si chiama Aspen Institute noi ci ritroviamo Giuliano Amato, ci ritroviamo l'Annunziata, ci ritroviamo Gianni Letta, ci ritroviamo Giulio Tremonti e ci ritroviamo Luigi Abete che è un uomo, espressione del mondo bancario. Luigi Abete lo ritroviamo anche in un'altra associazione che si chiama Astrid ed è la fondazione di Bassanini. Sì, quel Bassanini che poi, guarda caso, ce lo ritroviamo anche in un'altra associazione che si chiama Italia Decide. E in Italia Decide c'è anche Giuliano Amato che lo avevamo trovato in Astrid e lo troviamo anche in Aspen Institute. Giulio Tremonti, Giulio Tremonti è in Aspen e guarda caso ce lo ritroviamo anche in Italia Decide. Piercarlo Padoan lo troviamo in Italia Decide dove c'è Tremonti e ce lo ritroviamo anche in italiani europei dove c'è l'Annunziata. Insomma sono tutte persone che hanno in comune il fatto di appartenere agli stessi salotti. Ecco perché al di là delle relazioni personali vogliamo capire se c'è qualcosa di più, vogliamo capire in nome della trasparenza se possiamo sapere i finanziatori di queste fondazioni. Grazie alla nuova legge Spazza Corrotti i partiti tra poche settimane saranno obbligati a rendere pubbliche tutte le donazioni superiori a 500 Euro. Inoltre dovranno rendere pubblici entro 15 giorni dal loro ricevimento tutti i contributi ricevuti nei sei mesi precedenti alle elezioni politiche. E veniamo alle fondazioni con lo Spazza Corrotti del Movimento 5 Stelle. Sono equiparate ai partiti e ai movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati in cui i vertici siano nominati dai partiti o che al vertice abbiano persone che vengono dai partiti oppure ex esponenti del governo, del Parlamento, dei consigli regionali. Insomma tutto deve essere chiaro, tutto quello che è politica e che riceve finanziamenti. Quindi continuino pure a fare le loro attività politiche, culturali, sociali, però ci dicano quanti soldi prendono, quanti soldi incassano e da chi con il Movimento 5 Stelle la trasparenza diventa legge.